Musica Allora sono qua con Alessio, un 2 a 2, com'è andata? Racconta E' andata benino, possiamo fare molto meglio, però oggi è andata così Gli avversari erano abbastanza guerriti ma non troppo bravi tecnicamente Noi eravamo leggermente superiori, però ci è mancato qualcosa anche oggi Perché anche oggi? Perché solitamente giochiamo meglio, però ogni partita che facciamo sempre ci manca qualcosa per arrivare al top Però fra altre due partite saremo competitivi, con tutti forse Quindi prima di Natale quali sono i vostri obiettivi? Prima di Natale vincere la prossima sicuramente, poi chissà Ok, ti ringrazio, dare un bocca al lupo per il campionato Grazie, crepi Ciao Grazie